Temptation Island, Alfonso e Federica, brutta pagina di televisione. Gelosia e mancanza di fiducia hanno messo in crisi il rapporto tra Alfonso e Federica, entrambi originari di Napoli. I due sono fidanzati da otto anni e convivono da uno, ma lei non riesce più a digerire i forti limiti a lei imposti dal fidanzato. Innamorata e con i classici prosciutti sugli occhi, Federica ha messo spesso da parte la propria libertà. Io adesso qui sono felice ha raccontato. Voglio fare tutte le cose di cui lui mi ha privato. Mi sono svegliata, ho portato dei costumi che metterò in questi giorni. Dopo aver sfoggiato il suo bichini più bello, Federica decide di viversi l'esperienza nel villaggio con la massima spensieratezza. Questo costume lui non lo conosce perché è geloso, commenta. Tra sigarette condivise, balli, baci sulla guancia, scherzi in acqua e carezze, Federica si avvicina anche al tentatore Stefano. Lui al falò è andato su tutte le furie ma ha comunque deciso di calmarsi, ma il racconto di lei a inizio puntata ha fatto discutere i social. La ragazza racconta che in occasione dell'unico viaggio fatto da sola, un viaggio di lavoro di tre giorni a Roma, lui le ha messo la localizzazione sul cellulare e, quando la sera è andata a mangiare una pizza con i colleghi, la tempestata di telefonate. Poi tornata in hotel se l'è trovato lì pronto a, ispezionare, la camera. Davanti a questa clip esplodono di polemiche i social. C'è chi si chiede, Federica ma non ce l'hai una famiglia che ti vuole bene che ti tiri fuori da questa relazione orribile. Voi cosa ne pensate?